A che punto è l'iter istitutivo dell'area marina protetta a costa di Maratea? E' la domanda che il consigliere PD della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli, ha posto nell'interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore all'Ambiente. Il là perché la questione arrivasse in Consiglio Regionale è stato dato dall'incontro sull'AMP organizzato dal PD locale a Maratea, con il segretario cittadino Raffaele Lamarca, esponenti di Lega Ambiente e lo stesso Cifarelli. Nel corso dell'Assemblea è emerso che gli studi Ispra commissionati dal Governo ai fini della definizione del perimetro dell'area marina protetta sono stati completati a gennaio 2023. Ispra e Ministero presenteranno una proposta di zonizzazione a cui la Regione Basilicata e il Comune di Maratea potranno rivolgere le osservazioni per eventuali modifiche. Secondo il PD locale, però, tutto si sarebbe arenato in terra lucana a causa, in sostanza, della mancanza di volontà politica. Dal dibattito, ha detto Lamarca, è emerso un immotivato stop all'iteristruttorio dovuto alla mancanza di volontà del sindaco Stoppelli di confrontarsi con la collettività sulla proposta di zonizzazione predisposta dall'Ispra, con il rischio che la scelta venga fatta da altri senza sentire la voce dei cittadini di Maratea che invece dovrebbero dire la loro anche sulla composizione dell'organo di gestione dell'AMP. Di qui l'idea di rivolgersi agli organismi sovraccomunali, incaricando Cifarelli per l'interrogazione regionale e il deputato Enzo Amendola per quella parlamentare al Ministro dell'Ambiente. Obiettivo? Ottenere dagli organi più alti un sollecito e un riavvio dell'intero ITER.